che mi valga se io faccio beneficenza ma la faccio con l'intenzione egoistica che mi valga in un probabile al di là che la faccio a fare commento anche se quell'azione non provoca in te un fotogramma retto cioè uno scatto di sentire la tua azione è utile per chi riceve la beneficenza grazie